Buongiorno amici di WeTrading, come ogni altro video precedente vi invitiamo a un'analisi e una riflessione volumetrica su DAX, SP e Gold. Oggi andiamo a guardare un po' i movimenti notturni in modo da prepararci per questa prima metà della giornata. Vi ricordiamo come sempre che il video ha solo finalità didattica, quindi qualsiasi esempio di valutazione non deve essere intesa come consulenza o come invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Inoltre, per chi poi vorrà imparare a leggere i volumi, diventare autonomo sotto questo aspetto, sarà possibile frequentare i nostri corsi di trading sui volumi di gruppo o individuali che sono qui elencati nella home page del sito WeTrading. O per chi magari invece vuole approfondire gli altri nostri servizi come lo spread trading, l'intraday o la mentorship sulla press action, naturalmente può prenderne piena visione. Ci sono anche, per chi non l'ha visto, una serie di articoli che ogni 2-3-4 giorni vengono pubblicati di analisi tecnica, anche azionario, anche forex, poi abbiamo anche indici, spread trading forecast, quindi utili per prepararsi la settimana e un test anche sull'automatico che stiamo portando avanti. Quindi, diverse cose in pentola che bollono appositamente per voi. Andiamo subito sui grafici e guardiamo il DAX movimento ribassista, notturno ribassista, ma la cosa che mi ha sorpreso è non vedere in questi minimi notturni una spinta ribassista da parte dei volumi o comunque un incisivo delta ribassista che poteva giustificare questi minimi e un rimbalzo a sua volta senza particolari incremento né di volumi né di delta. Quindi, ho l'impressione appunto che il movimento ribassista non sia finito, che questo sia stato un primo test portato avanti, diciamo, dai piccoli trader, quindi dalla folla, non dalle mani grosse, che invece si sono posizionati in questo ambito, ma io penso che la maggior parte si siano posizionati invece qui, nella candela di apertura di ieri, che come già, se guardate il video di ieri vi ho fatto vedere, queste erano le tre di reverse importanti e anche questa è andata allo stesso tempo. Adesso potrebbe verificarsi, in pratica qui, quindi fra poco, una candela molto simile, quindi un massimo quasi di giornata, qui poi potrebbe proseguire un reverse. Io già ho venduto, probabilmente, ecco, potrei continuare a vendere anche in questa candela, faccio, diciamo, affidamento sia al WIWAP, che potrebbe quindi appunto trattenere i prezzi, sia al POC, quindi che abbiamo, ecco, doppio punto importante, e come obiettivo mi prefiggo il tocco della seconda deviazione standard del WIWAP intorno ai 13.850, ma è anche molto vicino il POC della settimana precedente, il che, ecco, non escludo che venga toccato, quindi 13.880, quindi attualmente mantengo una visione di tipo ribassista. Quando cambierò la mia idea? Quando vedrò volumi rialzisti importanti con una reazione del mercato, o volumi ribassisti importanti in concomitanza con dei minimi. Ecco, questa è la regola che mi sono dato e che finora, ecco, ha portato a discreti risultati. E quindi, per me, il DAX è un SELL. Andiamo adesso a visionare un altro strumento importante, che è il GOLD, in cui ho già da diversi giorni accumulato dei BUY, come vi ho detto. Andiamo a guardare la struttura settimanale. Abbiamo un prezzo sotto il WIWAP e sotto il POC di questa settimana, mentre per la settimana precedente il POC si trova qui sopra, quindi 1773 in questo momento. Naturalmente parliamo di valori di futures. E un altro importante POC è 1800 e qualcosa. Noi abbiamo, quindi, un minimo importante di ieri, che, ecco, anche questa era una candela che avevo segnato nel video di ieri, in cui avevamo, appunto, notato un incremento di lotti SELL su un minimo momentaneo. E guardate questa situazione in cui, appunto, c'erano volumi elevatissimi su dei minimi e, allo stesso tempo, i delta in questi volumi sui minimi erano fortemente rialzisti e poi, vedete, quasi nulli. Quindi, come a dire che questo long non era stato cancellato, anzi, è stato mantenuto. E qui solo si era avuto un po' una titubanza, un po' di un delta negativo, ma volumi bassi rispetto ai precedenti. E poi, tutto ad un tratto, vedete, quindi questa fase laterale che si è mantenuta finora. Ora abbiamo, di nuovo, quindi il test della seconda deviazione standard qui, oltre che essere stato un... aspettate che lo andiamo... ecco, abbiamo toccato i mille... abbiamo toccato come minimo i mille e sette di Futures, quindi un round number importante, un secondo... una seconda fase di test sulla prima deviazione standard del WIWAP, ma il prezzo, comunque, è rimasto incastrato in questa fascia. Io sono long, come ho già detto da diversi giorni, sto aspettando un movimento importante e, naturalmente, ecco, mi attendo che il prezzo sopra i mille sette e ventuno, sotto il mille sette e venticinque, diciamo, ecco, in quest'area dovrebbe di nuovo accelerare al rialzo, perché dove mi stopperei... sono... ieri avevo messo uno stop qui sotto questo minimo, non mi è stato preso per poco, quindi è andato benissimo, ma, appunto, il... quest'area è sicuramente un'area di stop da valutare, quindi, ecco, se ci arriverà probabilmente deciderò di stopparmi. Non lo so se mi metterò a sell, però probabilmente sì, devo vedere un po' come ci arriva, se arriva senza volumi o con volumi importanti o... ecco, bisogna, ecco, comprendere bene questa dinamica. Attualmente abbiamo... questa notte questa è una candela notturna interessante, perché sono stati i volumi più alti della media notturna, che, in effetti, vedete, hanno creato un movimento leggermente rialzista e adesso stanno un po' iniziando a posizionarsi. delta non significativi per adesso, ma vediamo, vediamo che succede. Comunque l'idea è di stare long. Infine, abbiamo il... l'SP500, che è... che ha una lettura un po' più difficile, secondo me. Guardiamo un attimo l'aspetto tecnico. Siamo sulla seconda deviazione standard del REWAP, quindi in teoria è un BUY. Ma, ecco, gli affondi ribassisti sono avvenuti su prezzi più in alto del prezzo di ora, quindi la parte ribassista notturna potrebbe essere stata semplicemente con una presa, diciamo, una continuazione di questo valore, ma non ci sono stati particolari cambi di volumi rialzisti. Sì, è vero, si sta un po' risalendo, ma secondo me è un effetto, diciamo, proprio meccanico, ma non voluto. Vedete, le candele sono assolutamente molto sottili e quindi la mancanza anche qui di volumi importanti in questi minimi mi fa pensare che appunto questi sell che si sono aperti tutti in questa zona siano ancora disposti a stare a ribasso e probabilmente a ripuntare a nuovi minimi. Quindi, in teoria, sono disposto a vendere, ma mi piacerebbe vendere un po' più in alto, intorno ai 3870. A differenza del lux che già si trova abbastanza alto, dove quindi la vendita, secondo me, è più interessante, più fattibile e qui è un po' più difficile. Ecco perché. Poi, guardiamo anche che questa fascia di prezzo, 3840, vedete, qui c'erano dei buy, qui dei sell, dei sell, dei sell, dei sell e poi buy, 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 buy. Quindi sono tutte fasce dove diverse volte gli stessi manipolatori, chiamiamoli così, si sono, diciamo, riposizionati e non si sono posizionati qua, nella parte bassa. Ecco perché dico, magari qui non è un buy, un vero buy, potrebbe essere un sell. Però, ripeto, il fatto di stare sotto la seconda dimensione standard del REWAP mi porta a pensare che probabilmente un rimbalzo ci sarà, ma appunto di rimbalzo si tratterà e non di movimento ecco, rialzista è importante. È più difficile la lettura qua, già l'avevo anticipato, quindi ecco, non dico altro. Comunque, per questo, questo è un video, così, di condivisione della mia idea, poi tutti gli altri dettagli saranno condivisi con i corsisti e vi ripeto, appunto, eccolo qua, vedete, il massimo del DAX, il massimo di giornata, probabilmente alle 10 potrebbe esserci il movimento ribassista. Volumi rossi, quindi ribassiste, non ho altissimi, ma abbastanza alti. 4.000, ancora non sono molto alti, però ecco, l'idea potrebbe essere interessante. 14.000, già siamo scesi un po'. Io qui mi sono posizionato esattamente, mi ero posizionato prima, un po' prima, 13.994, quindi adesso sono leggermente, vabbè, perdo un punto, quindi fra poco potrei andare in pari e poi andare alla ricerca del profitto. Il mio obiettivo sarebbe qui, la seconda diviazione standard. Allora, vi ripeto, tutti gli altri dettagli sono condivisi gratuitamente con i corsisti. Per chi vuole diventare corsista può, naturalmente, contattarmi, avere tutte le informazioni, o chi vuole, naturalmente, può continuare a seguirci gratuitamente nel nostro canale YouTube o tramite i nostri social o il sito WeTrading. Grazie e buona giornata a tutti.